Ciao a tutti amici benvenuti in questo tutorial oggi vi spiego qualche trucchetto molto molto interessante per ottimizzare i vostri video per caricarli per sapere cosa dovete fare e così potete aumentare le vostre visite ovviamente alla fine di tutto il contenuto è quello che importa potete ottimizzare i vostri video al top ma se fanno cagare nessuno li guarderà quindi vediamo subito allora innanzitutto il plugin io utilizzo un plugin perché youtube by default lo sapete benissimo com'è quando andate a caricare un nuovo video non hai un'interfaccia che ti puoi aggiustare i tag adesso vediamo mettiamo questo tutorial che stavo registrando qua ovviamente c'è la descrizione qua adesso iniziano a comparire delle cose questa questa parte qua vi dà lo score dei vostri tag ci sono delle checklist da fare vi dà degli aiuti e quindi già questo su youtube normale non l'avete poi abbiamo qua questo è dove inserite i tag però abbiamo dei bottoncini aggiuntivi che ti permettono di aiutarti a creare i tag ad esempio questo è un tutorial di mac mac in realtà sarebbe questo tutorial ma facciamo così tutorial qua ci mettiamo che so mac tutorial poi quando lo schiacciate vi viene un pop up che vi fa vedere le cose consigliate diciamo che mac adesso mi ha messo anche quello dei cosmetici vi fa vedere un po il trend vi fa vedere cosa la gente cos'è molto trend in questo momento make up tutorial quindi se siete delle donne andate subito a fare dei make up di mac tutorial però noi tecnicamente volevamo il mac pro tutorial non tanto poi questo è molto importante questa parte qui diciamo che noi vogliamo vorremmo idealmente avere una ricerca di volume alta e la competition bassa no ciò vuol dire che la gente cerca molto questa keyword però non ci sono molti video diciamo nella maggior parte delle volte è più o meno così competition ce ne sono un sacco e la ricerca è poca però nel nostro caso rifacciamo la cosa facciamo iphone 8 tutorial cerca ok il trend è iphone plus abbiamo messo l'otto ricerca poca competition molta e quindi vabbè comunque diciamo che queste le keyword che dobbiamo utilizzare perché abbiamo appunto recensito questo iphone 8 quindi qui abbiamo un sacco di suggerimenti poi potete notare una cosa che spesso noto quando la gente mette video è che mette le keyword singole iphone plus mac apple ma così una stronzata perché c'è veramente così tante persone che la fanno che è quasi impossibile che uno cerca mac esce fuori il tuo video no l'idea è fare queste keyword phrases che sono si fa anche su youtube no no si fa anche su google per i siti web devi mettere proprio una frase no how to use the iphone camera bellissimo schiacci e viene automaticamente messo nel coso how to use adesso questo è in inglese però possiamo anche metterlo in italiano recensione ok c'è recensione vediamo il trend iphone plus recensione bello bello quello mi piace iphone 8 opinioni tipo opinioni non l'avrei mai pensata recensione vabbè le mettete insomma anche qua possiamo vedere che la gente non se lo caga sta ricerca qua non se la fa quasi nessuno 8 per cento competition 33 quindi non è molto buone già possiamo vedere che le ha già inserite già qua siamo già al top no comunque vi dà il contatore vi dà anche una funzione ah beh qui nella descrizione mettete la vostra descrizione questa è quella di default che c'ho poi la metto possiamo mettere le faccine qua non c'è problema il titolo qua mettere la playlist perché questi sono i punti che dovete fare no quindi per fare il top dovete farli tutti io li faccio sempre tutti tranne i caption i caption sono una rottura o li fa in automatico oppure in alcuni casi l'ho rifatti veramente manuale come dice lui perché youtube così riesce a capire molte più keywords che ci sono nel coso no comunque fatto questo lo pubblicate e ci sono anche altre opzioni molto belle però adesso vi faccio vedere anche altre 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 funzioni di questo software che magari faremo altre puntate perché ci sono così tante funzioni che anche adesso non voglio fare un video di un'ora no possiamo vedere che già nella pagina qua dei commenti abbiamo tre bottoni nuovi che mette lui che mette il plugin nella descrizione ho messo il link guardatelo tutti possiamo vedere i competitors potete mettere le persone i vostri competitors amici e competitors io ho messo Rulo Frefa fai da te mille accendini Marco Ottonio io mi sarei giusto per vedere non tanto per emularlo cose ma vedere la differenza con uno che fa un sacco di visualizzazione americano che lo vediamo sempre allora qua abbiamo la nostra pagina nelle ultime 48 ore che movimento c'è stato lui ha messo quello diciamo che siccome ci sono anch'io il suo è andato abbastanza bene fammi vedere come va vph vuol dire le visualizzazioni per ora quindi più alto è meglio è comunque this week tutto lui a me non mi fa vedere non lo so la storia no this month la mia è qui avevamo avuto ti fa vedere anche molto bello quanti iscritti hai avuto con questo particolo video qua ne ho fatto uno e invece lui ne ha fatti 55 vabbè vabbè devo dire che mille accendini non pubblica più niente non lo so vabbè questo è bellino ci sono altre interfacce ci abbiamo un altro menu qua che ci sono altre interfacce potremmo vedere prossimamente no ci abbiamo i trend i trend si si mettono a posto qua io ho fatto diy che vuol dire fai da te e poi ti arriva un email ogni settimana con i trend del momento su questa cosa sinceramente la voglio cambiare perché se tutto è roba da bambina non so che cavolo è comunque ci guarderemo ogni tanto devo mettere le keyword magari fatte un po meglio però auto remove wrinkles anti aging ama è una crema perché io l'ho fatto in video un software molto bello che mi ha dato abbastanza visualizzazioni quello che most view anche qui fa vedere vedete qua 165 mila visualizzazioni all'ora ci siano tantissime altre cose c'è da dire che noi abbiamo il pacchetto plug in a pagamento pro che costa mi sembra 10 dollari al mese però guarda senza quando mi finirà la sottoscrizione e dirò ah vabbè non pago più ma dirò ma porca puzzo non ha niente youtube non c'è proprio niente insomma è quasi obbligatorio se fate video su youtube grazie a tutti